La 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 FFoxy nuovo qua sperando che non si stirino ancora del texture del cazzo perchè questo qui su dei bug di merda che da un fastidio, giustamente e andiamo avanti non vedo l'ora di comprare un microfono nuovo decente forse la usb è meglio, non so, ditemi nei commenti se la meglio usb la stanno smantellando ok endurance vediamo un po' vabbè no devo ancora aumentare di livello quindi niente l'attrezzatore avrebbe potuto fare qualcosa ma boh non lo voglio in questo momento dai giochiamo invece che stare qui a fare tutto questo di potenziarci, però da loro lì più tardi quando ce ne sa bisogno devo andare di qua? si mi sembra proprio di sì oppa di quel che vi pare malampicarsi questi lanciati ed è molto meglio che che saltare tipo Tomb Raider della play 1 e poi ha detto in tutta sincerità a me questa Lara Croft di questo Tomb Raider qua mi piace di più che quella di dei vecchi Tomb Raider quella dei vecchi Tomb Raider era un pochino più boh dove esco questa? dove esco questa? i vecchi Tomb Raider ho giocati poco e niente eh però questa qui mi piace di più come personaggio da quello insomma anche da tutto da tutto magari se giocassi da Tomb Raider dire al contrario ma per adesso io sono in consiglia sicuramente non va ma tanto per provare non fa non funziona ok oh c'è gente oh c'è gente ok triangolo ok ok attenzione la sotto lo tiriamo su chissà che succede al palazzo la montagna è avvolta nel fumo in caso di problemi ci chiamerebbero sempre che la radio funzioni si sentono solo rubori di forma c'è qualcosa che non va basta fratello smettila di parlare così io sono qui questa gente è da far fuori io avanza oh cacchio che lavoro di merda dai fratello fratello un cazzo sono stufo stufo di raccattare tutta questa merda qui ci facciamo il culo e per cosa? per padre Mattias? quella cazzo di regina? per quanto ci toccheranno? no 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 che succede? cosa? tutto bene? cosa? benissimo tu sbrigati con il generatore quel dito ci lamentava e l'hanno ucciso giustamente cazzo arrivo qui cazzo arrivo qui eh che cacchio m'ho visto ok giù mi ha occupato qualcuno? da dove? ma da dove era scusatemi tanto che palle attenzione la sotto lo tiriamo su chissà che succede al palazzo la montagna è avvolta nel fumo in caso di problemi ci chiamerebbero sempre che la radio chiude si sentono solo rumori di fuoco c'è qualcosa che non va basta fratello smettila di parlare così oh non m'ha visto nessuno eh? qua su c'è un'intrusa ma come m'han visto? eh si vaffanculo a tutti quanti scusate scusate sono un po' silenzioso ma ok non posso scappare perché sono un po' concentrato tutto qua muori 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 morite anche voi benissimo ok aiuto no perché questa arma ma più delle munizioni aia 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 mmm no no via no anche te tutti con la spada qua cazzo aia 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 morite no sta andando veramente male la cosa ok nalta 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 bene muori 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 ok sento dei rumori molesti eh spaga tutto il muro questo se anche la pagherai il cazzo la pagherai questo qua per com'era cerchio? eeeh palle go da fuor come no? ok aia no muori boom ok è un altro che sabbia la 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 deprediamo i cadaveri dei nemici ok almeno che ci sia qualcosa indietro dopo tutto il casino ok io ho finito ho avuto le munizioni del no non ho finito tutte pensavo di si non è che le ho recuperate dai cadaveri c'è che le ho recuperate dai cadaveri si anche perchè sono quasi sicuro che le ho recuperate da lì andiamo avanti si sono televisioni decisamente si sparo magari con una polverizzate polverizzate proprio spariscono quasi avanzano due tre pezzi ma uh un libretto distruzioni data session 1 la nostra base costiera è stata attaccata da nemici sconosciuti sospettiamo sia opera degli americani giunti fin qui per sabotare le nostre operazioni le comunicazioni sono saltate su tutta l'isola e abbiamo subito ingenti perdite molti dei nostri soldati sono spariti senza lasciare traccia tutti i superstiti si dirigeranno verso l'antico monastero per assumere il controllo dei fenomeni atmosferici ci aspettiamo una forte resistenza richiediamo rinforzi con la massima urgenza benissimo la 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 allora ah subito ti fa l'arma ma come eccolo bello furbi molto furbi muori ma i ragazzi sono corazzati mi sa che sono quelli corazzati questi e qui non li vedo bene perché vedo delle sagome ok questo qui è morto l'altro? ok ok di qua non c'è niente? inutile? no oh 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 ma come? prima mi proponi di ucciderlo così e poi non c'è ci sta ammazzando tutti ah 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 no il fuoco no il fuoco no ma con uno qui? l'ho mancato ok 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 dammi munizioni e ora dov'è? è ancora là in alto quello là ah no come non ho detto vabbè non è durato più di tanto meglio così ok queste imboscate da quattro soldi che sta sparando? al riparo abbiamo un intruso ok chi è capallato? chi è capallato? gente più lontano di così perché qui non c'è nessuno cucila pompa componente me ne manca uno oh cacchio da che parte arrivano quindi? avanti ok no se da me aiuto io vado avanti ma non so se aiaiaiaia ok no 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 su ok via fucile a pompa aspetta bravi state di fianco di quei cosi mossa molto furba intelligente arguta soprattutto a vieni fuori a quel paese non ce la faccio aspetta mancato di dischi no come è che sono sopravvissuto? ho pensato di essere morto ah ah non ce la faccio sbagliato arma sbagliato arma dai prenditi un po di via 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 quanti ce ne sono? ok non sopravvivo infatti non sopravvivo ma all'ora mi sa che devo ucciderli tutti prima di attaccarmi da sopra perché appena mi sono attaccato e si è buttata giù proprio spontaneamente via non voglio rimanere qui sopra quindi ma è più caro il checkpoint dov'è? quanto indietro ci sto tornando ah ok da qua Ma che? Che sta sparando? Al riparo, abbiamo un'intrusa La 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 giù! E al piano di sopra! Bene Adesso che si vedessi E ci spara addosso, ma va? No, guarda, sono pacifico Non faccio male alla mosca Dai, vieni fuori Cacchio No, 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 via E mori Via, 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 via Aia, no, no, no Poca vita, poca vita Metto qua O servo qui per evitare che arrivi qualcuno di qua Recuperata vita con l'autoricarica di vita Di come si dice Vita autoricaricate Ok, via Via Ok Cacchio, troppo lontano È morto? Sì Decisamente sì Ok, è quello lì La sopra E tutti i corazzati No, ma chi è che mi sta spando roba infuocata Va bene, Doraemon Tranquillo, Doraemon No, Doraemon Ok, è morto Meno male Salto Il gioco sta andando a scarti Spontaneamente Che è che fa? Ah, eccolo E quello lì avrebbe a toliverlo sicuramente Yeah Saltiamo E di nuovo Spero che non mi si butti di nuovo Perché Oh cacchio Brutta fine Per tutti quanti Ne è avanzato qualcuno? Non sento nessuno L'area Quindi mi sembra di no Vediamo se stavolta si butta spontaneamente Sì, prima si è buttata spontaneamente Perché c'hanno ancora nemici Tipo il gioco non voleva che arrivasse fino a qua Siete avvenuti tutti, credo Uh, il solo abbagliante Ok Bandierina da bruciare Anche se mi sembra che Sicuramente mi sono fatta scappare tutte quante Quindi potremmo anche non Non farlo Vabbè, vabbè Quel poco di esperienza che mi ha dato Va benissimo Dependiamo tutti i cadaveri Questo gioco qua insegna questo ai bambini Agli adulti A tutta la famiglia Ok Nuovo accampamento Vista sull'endurance Ok Uh, questo qui cos'è? Tesoro? Sì, è un tesoro L'ho lasciato per te Da dentro al copparetto Lavatrice di merda Ok Un lato è usurato Come per eccessivo sfregamento La moneta porta fortuna di un soldato Pensavo tipo che fosse usurato Perché le texture Sono state fatte male L'ho lasciato Proprio stavo per dirlo Voi mi ha interrotto Com'è che si Attacchi di luce Boh ma Sì, sappiamo perché c'è il sole così là Ok Comunque qui c'è l'accampamento Direi di fermarci qua E potenziarci se possiamo Perché dai Adesso posso, vero? Non dimmi che ancora Non sono in grado 3 E non lo sono ancora Beh, me ne risparmio perché sicuramente Questa è tutta roba utile Che non la voglio di leggere adesso E Attrezzatura potenziamo un po' tutto Tipo Io potenziio entrambe queste perché Perché l'arco lo uso abbastanza spesso Quindi ok Poi il mitra Vediamo un po' Ok Poi ho finito tutti i soldi Quindi Tutta la cosa Quindi posso anche togliermi da qui E direi che possiamo Un attimo Costumi con le opere finito Mettiamoci Avviatrice perché dentro Per cambiare un po' Ma non è male l'avviatrice, dai Anche quell'altro Qual era? No, guardia non mi piace troppo Va bene l'avviatrice, dai E qui diciamo che Oh Che c'è? Non è mai che l'ho notato adesso No col cazzo che aveva notato qui Lara ha ragione In questo modo, altrimenti qui esco completamente di testa Magari fossi come Lara Quella ragazza è incredibile Non solo è geniale Ma può anche metterti KO in due secondi Se fino ad ora non mi ha docchiato Dubito che lo farà mai Ma se facessi qualcosa di eroico per attirare la sua attenzione Questo Ok Vabbè niente Salve automaticamente Vediamo un po' No Dove mettermi qua Dopo salvi Sblocco un'abilità Che se no poi dopo che non salvi il gioco Il mio Per il proprio abbastanza Questo Via Ok sta salvando Meno male Ecco come si faceva Meno male che l'ho fatto allora Vabbè ci vediamo alla prossima parte Al prossimo Ciao